Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vogliamo meditare oggi i misteri proprio della risurrezione, sentendoci uniti alla vittoria pasquale e sentendoci raggiunti dalla forza di questa vittoria per affrontare il presente che viviamo con la speranza e con la fede proprio dei figli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amore. O stella del mare, il Figlio dell'uomo, Dio vero vita e figlia, è nato da te Maria. Dio vero vita e figlia, è nato da te Maria. Ave piena di grazia, l'Arcangelo Gabriele. Annuncia il Salvatore, cancella del Signore. Annuncia il Salvatore, cancella del Signore. Viglia Vergine Madre, sulla nostra fede. Ogni uomo è tuo figlio, e Cristo vive in lui. Ogni uomo è tuo figlio, e Cristo vive in lui. Salve porta del cielo, rivelaci il mistero. Del vero e immenso amore, di Cristo Redentore. Del vero e immenso amore, di Cristo Redentore. Al Padre gloria e onore, al figlio salvatore. Per sempre al Santo Spirito, con te lo delegiamo. L'orato sempre sia il Santissimo nome di Gesù. O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, alla tua misericordia. Manda, Signore Apostoli Santi, alla tua Chiesa, e dona perseveranza agli eletti. Primo mistero glorioso. La mamma gran gioia ti può esprimere, che la Vergine ha trovato, quando il teso è lato di Gesù risuscitato. Recitiamo con le tizia, ai piedi di Maria, il Santissimo Cisario e la Sant'Italia. Così preghiamola con fede pura, piena di grazia, la gran Signora. Fra tanti anni ti chiede, e ci soffa, fa cuori e grazie ci accorderà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venne che il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie a Dio a Dio, a Dio, a Dio, a Dio e a Dio. E rimediamo i nostri debitori. Come noi rimediamo i nostri debitori. E non ci permette la tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega adesso e allora la nostra morte amore Ave Maria di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria di Dio prega per noi peccatori adesso e allora la nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria di Dio prega per noi peccatori adesso e allora la nostra morte amore amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e allora la nostra morte amore amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria prega per noi peccatori 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 amore amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria prega per noi peccatori prega per noi peccatori prega per noi peccatori adesso e allora la nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Maria prega per noi peccatori prega per noi peccatori Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Maria prega per noi peccatori adesso e allora la nostra morte amore Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Maria prega per noi peccatori adesso e allora la nostra morte amore Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo e allo Spirito Santo come era nel principio ora e sempre e negli secoli dei secoli amico l'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù di Maria Gesù di Gesù perdona le nostre colpe preserva scelta un po' dell'inferno la morte in cielo e le altre anime e le più bisognose della tua misericordia della tua misericordia vergine annunziata prega per noi secondo mistero glorioso circondato da una nuve che pareva un bianco vero come il dardo di vittoria Gesù Cristo salato al cielo recitiamo con le tizie di vittoria ai piedi di vittoria il Santissimo salio e che la santità mia così prega con fede pura piena di grazia la grazia di ignora tra tante angustie che ci sono qua bravo e grazie ci accorderà madri padre nostro che stai nei cieli sia santificato il tuo nome che venga venga il tuo nome e in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurna in tentazione ma liberaci dal male amore amore e ma madri di dio prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Maria piena di grazia, il Signore è con te, e la benedetta della nostra morte, ed è tutto il tuo sangue, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, Maria piena di grazia, il Signore è con te, e la benedetta della nostra morte, ed è tutto il tuo sangue, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, e la benedetta della nostra morte, ed è tutto il tuo sangue, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Maria piena di grazia, il Signore è con te, e la benedetta della nostra morte, ed è tutto il tuo sangue, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, e la benedetta della nostra morte, ed è tutto il tuo sangue, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, e la benedetta della nostra morte, ed è tutto il tuo sangue, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, e la benedetta della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, e la benedetta della nostra morte, ed è tutto il tuo sangue, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, e la benedetta della nostra morte, ed è tutto il tuo sangue, Gesù. Gesù. Gloria Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Signore, 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 al Signore. Gesù, Gesù. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preserva il Gesù. vergine annunziata verso mistero glorioso Maria in cuore approvato quando il Dio e il Santo Spirito tu gli apostoli ha mandato recidiamo con il Dio e il Dio ma il Dio e 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 la Sant'Avita l'Oscifrio l'Oscifrio la Santa l'Oscifrio e il Dio e il Dio e il Dio il Dio e il Dio e il Dio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Grazie a tutti. 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 Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. adesso è nell'ora della nostra morte. adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. adesso è nell'ora della nostra morte. adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. adesso è nell'ora della nostra morte. adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Lo dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, e Maria. Gesù mio, perdona le nostre morte. Preservaci dal fuoco dell'inverno. Orgo da l'inverno, e a tutti i miei anni, 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 Vergine annunziata, prega per noi. Quinto mistero. Chi può esprimere la gioia della Vergine Divina? Padre, Figlio e Santo Spirito, l'incoronano Regina. Recitiamo con l'edizia, ai piedi di Maria, il Santissimo Salio, e la Santa Vita Maria. Così preghiamola, così preghiamola, come l'editura. Piena di grazia, la grande signora, la grande signora, fratante a tutti i miei anni, che ci può esprimere la voglia, di grazia, che sta a tutti i miei anni, Padre Don, che sei nei Cieli, senti allora, Grazie a tutti. Grazie a tutti. A work with you. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, che prega per noi e per noi, adesso il loro Natale, che prega per noi e per noi, adesso il loro Natale, che prega per noi. Amen. Amen, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Come era nel principio, ora e sempre. Amen. Come era nel principio, ora e sempre e in secoli dei secoli. Amen. bisogna fare nella tua misericordia, vergine annunziata, pregata con noi, da te regina, mater mi di ormai, vita tu e tu, 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 e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del Cielo che sei Dio, aprivi la pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, aprivi la pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, aprivi la pietà di noi. Santa Trinità unico Dio, aprivi la pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna da noi, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di Ele, prega per noi. Il specchio della santità divina, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, causa della nostra delizia, prega per noi, il specchio dello Spirito Santo, prega per noi, al pernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, ora tutta consacrata a Dio, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, orre invitabile, prega per noi, orre lavorio, prega per noi, casa d'oro, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, Stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, consorvatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto degli cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei matti, prega per noi, regina dei veri cristiani, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato originale, prega per noi, regina assunta in cielo, regina della famiglia, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, prega per noi, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, 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 prega per Dio che togli i peccati del mondo ambiti le tante di noi prega per noi Santa Madre di Dio e saremo dei 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 promessi di Cristo concedi ai due fedeli Signore e Dio nostro di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima sempre Vergine salvaci dai mari che ora ci rattristano e guidaci alla giunta senza fine per Cristo nostro Signore secondo le intenzioni del Papa Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatto alla tua volontà come in cielo così in terra grazie a noi nostro padre e il nostro male ripeti a noi e il nostro figlio come noi ripetiamo e il nostro figlio rilassi di noi e il nostro figlio e il nostro e il nostro figlio ma liberaci dal male Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. I fratelli defunti, i nostri familiari, i confrati e le consorelle e particolarmente tutti i defunti che in questi giorni hanno perso la vita a causa del coronavirus. L'eterno riposo donano loro, Signore, che splendano i figli e benedetto è il tuo seno, Gesù. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di lei, prego a noi e noi, adesso, 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 adesso. Amo. E il verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo quasi digni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come erano i figli, ora e sempre, ed ecoli, ed ecoli, ed ecoli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come erano i figli, ora e sempre, ed ecoli, ed ecoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il figlio, sicuro. Ora e sempre. E sempre. Se stesso. E sempre. Amo. Angelo di Dio che sei il mio figlio. Il mio figlio di Dio che sei il mio figlio. Il mio figlio di Dio custodisci. E il mio figlio di Dio di Dio che sei il mio figlio di Dio. Dall'altro doveva. Che di cui ha fatto tanto da la tua vita celeste. Amo. E per l'intercessione della Vergine Annunziata vi raggiunga la benedizione di Dio Onnipotente. Il Signore sia con voi e con il tuo Dio. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. E l'ora che pia la squilla fede, le note ci invia dell'Ave del Cielo. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Bene, sentendo tutti l'abbraccio di Maria Vergine e Madre, vi auguro una buona serata. A presto. Grazie. 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 Grazie.